Si svolgerà domani alle ore 19.30 nella Sala Erica di Piazza Santini a Capaccio Scalo il convegno dal titolo 3 progetti per il PUC, Polo Scolastico, Parco Agricolo, Tabacchificio. L'incontro è organizzato dal Comune di Capaccio in collaborazione con Master Architetture e Ambiente e l'associazione No Profit New Italian Blood. Interverranno per un saluto istituzionale il sindaco Italo Voza, l'assessore alla pubblica istruzione Francesco Sica e l'assessore alla cultura Eustachio Voza. Sono previsti inoltre gli interventi del responsabile dell'area urbanistica, progetti strategici e pianificazione del Comune di Capaccio Rodolfo Sabelli e delle dirigenti degli istituti scolastici comprensivi cittadini Enrica Paolino e Maria Cristina di Geronimo. Le relazioni sui progetti relativi al nuovo piano urbanistico saranno affidate a Luigi Centola, Luca Cerullo, Stella Cuomo, Giulia Lambiase e Gianluca Petroselli, tutti esponenti del Master Architettura Ambiente e dell'associazione New Italian Blood.